Sono Stefano Casali del circolo dei Dreamers che ci occupiamo di cinema, l'abbiamo fatto per tanti anni agli esi all'appannaggio con il cinema all'aperto, abbiamo fatto anche dei corsi sul cinema e dopo tanti anni abbiamo ripreso da quest'anno in inverno a fare una rassegna invernale al cinema astra e adesso stiamo allestendo una rassegna estiva tornando a una vecchia tradizione di chiesi perché è dai primi anni 80 che c'era questa tradizione del cinema all'aperto, siamo contenti che oggi riusciamo a riprendere questo cinema all'aperto e abbiamo costituito un'associazione che si chiama The Dreamers insieme a Katia Fratesi che è la presidente di questo circolo con il sostegno della UISP che è fondamentale, con il sostegno del comune di Chiesi e quindi speriamo che la città accolga con favore questa iniziativa e riusciamo a portare avanti con soddisfazione anche per i film che abbiamo scelto. Sui film vorrei dire una cosa, cioè a Chiesi c'è una situazione abbastanza difficile, non sempre le case di distribuzione riescono a fornirci cinema, i film, anzi che noi vorremmo fare perché a Chiesi comunque c'è un grossissimo operatore che di fatto ha legemonia nella distribuzione, nella proiezione dei film e per cui noi soffriamo diciamo di una situazione di disparità, nel senso che noi siamo piccoli e abbastanza nuovi anche se con un vecchio retroterra però e poi di fronte a noi c'è un operatore che è la multisala che ovviamente ha un potere diciamo così di scelta primaria nella proiezione dei film quindi noi in questa rassegna che stiamo allestendo e che comincerà sabato sera, sabato 28 giugno e terminerà il 31 luglio diciamo che non siamo riusciti a programmare tutti i film che avremmo voluto fare. L'obiettivo di questa associazione cinematografica sono vari ovviamente, uno è quello di comunque permettere ai cittadini di vedere dei film che altrimenti nei circuiti commerciali, classici non si vedono e questo è uno degli obiettivi. L'altro è anche di lavorare per costruire una cultura cinematografica, cioè un linguaggio del cinema eccetera e questo per arrivare a dire che se troveremo dei fondi, dei finanziamenti o un autofinanziamento se questo rassegna va bene eccetera vorremmo in autunno o autunno-inverno fare un corso sul cinema in cui insomma chi è interessato può partecipare a un corso come facemmo dieci anni fa, undici anni fa un corso sul cinema in cui noi vorremmo insegnare in qualche modo il linguaggio del cinema la sceneggiatura, la regia, la fotografia, i costumi eccetera eccetera perché crediamo che l'obiettivo di fondo sia far crescere comunque un aspetto particolare che è quello del cinema appunto una cultura cinematografica. Grazie.